Buongiorno, ben svegliati, benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di Jesolo, parliamo del lago di Garda, ma parliamo soprattutto della necessità di allungare la stagione turistica nelle località predilette del nostro territorio tutto l'anno. E Jesolo, questa principale località balneare della costa veneziana, ha in qualche modo anticipato questa tendenza perché Jesolo non è soltanto estate, non è soltanto spiaggia e mare con il soleone, ma è una località che è sempre più aperta tutto l'anno. Ma per parlare delle iniziative legate alla festa di San Valentino che in qualche modo gemellano Jesolo con il lago di Garda, qui con me oggi ho Alessandro Perazzolo, assessore al commercio e all'attività produttive proprio del comune di Jesolo. Buongiorno a tutti gli spettatori e buongiorno a lei. Jesolo tutto l'anno, è possibile? Beh, sì, ci stiamo riuscendo. Abbiamo iniziato il percorso tre anni fa, quattro, con il primo villaggio di Natale, il primo Christmas Village 2016 e siamo riusciti pian piano, con tanti eventi, compreso anche il mercatino, a cercare di allungare quello che è la stagionalità. Perché sappiamo che Jesolo ci dà da aprile fino a settembre, anche i primi di ottobre, perché vediamo che il clima ormai è cambiato, e dunque arriviamo fino a metà ottobre. Stacchiamo quei 15-20 giorni, poi riprendiamo con dicembre e Natale e da lì partiamo fino alla fine. Dunque poi abbiamo anche altre iniziative, ma comunque Jesolo è a 360 gradi. Qual è stata la formula che ha fatto sì che il Christmas Village, che poi è stato l'evento, che in qualche modo ha abbattuto il muro della stagionalità, l'ha resa una manifestazione così attraente? Soprattutto attrae gente del territorio, perché insomma un po' per tutti i veneziani, i padovani, Jesolo resta un po' il mare d'inverno, una suggestione, il fascino? O c'è anche un flusso di turisti, quindi con occupazione delle strutture ricettive e alberghiere? Sì, diciamo che la sfida, come dicevo prima, è il 2016. È partito con un lavoro, dietro c'è un lavoro molto molto imponente, perché tra gli uffici nostri comunali, ma anche gli organizzatori, è partito un villaggio di quasi 400 metri, con 45 casette, la prima volta, e nessuno ci credeva. Però la sfida è stata vinta perché con il sindaco Zoggia, abbiamo ancora nel 2016 creduto, io ero ancora consigliere, prima di diventare assessore, ci abbiamo creduto e come turisti abbiamo visto anche che con vari espositori che venivano anche da fuori, abbiamo attirato tutta la parte di austriaci, tedeschi, avevamo anche padovani, trevisiani, avevamo molte, molte località. E non per niente adesso, proprio quest'anno, quella terza edizione, abbiamo visto che molti comuni vicini hanno creato il mercatino di Natale, hanno creato il trenino, hanno creato tutto quello che è stato creato in prima da Iesolo. Questo per noi è un segno di orgoglio perché vuol dire che siamo sulla direzione giusta. Naturalmente le presenze sono state imponenti perché sappiamo benissimo che Iesolo è una località che quando c'è il sole, sappiamo che si arriva la domenica mattina, alla sera c'è la colonna per uscire. Però è stato imponente perché vedevamo quella flusso di gente e in più quando c'è il sole, quella fil rouge che c'è da Piazza Marconi, che è il presepe di sabbia, fino al Piazza Mazzini, tra la spiaggia e il tornare indietro. Dunque diciamo che ha funzionato e le presenze il primo anno sono state circa 200.000, aumentando, arrivando quest'anno, sulla terza edizione con quasi 300.000 presenze. Ma questo funziona perché il mercatino di Natale non necessariamente più deve essere in montagna oppure nella città d'arte? Forse la novità è stata questa di creare un mercatino di Natale al mare, in spiaggia? Diciamo che sì, è stata una novità perché siamo abituati a sentire il mercatino di Natale, mercatini di solito si fanno in montagna. È stata una sfida appunto con gli organizzatori e il sindaco e tutta l'amministrazione di provare. Abbiamo rischiato, anche per quell'anno che abbiamo rischiato, mi passi questo termine, era l'anno delle elezioni del sindaco e dunque il sindaco ha messo proprio la faccia. L'ha rischiato, ma l'ha utilizzato anche come campagna elettorale. Ogni rischio ha una doppia faccia, no? Diciamo che si usa dire che qualche volta rischiare, se funziona, poi alla fine si vede un rischio. Chi non risica non rosica. Esattamente. C'è anche un'altra iniziativa che quest'anno vi rende particolarmente orgogliosi, la Sand Nativity è una caratteristica, il presepe di sabbia tipicamente jesolana e quest'anno la Sand Nativity di sabbia era il presepe in piazza San Pietro, il presepe del Papa. Anche questa è una mossa da un punto di vista della visibilità della località balneare indubbiamente notevole. Stiamo anche vedendo le immagini dell'installazione del lavoro degli scultori di sabbia proprio in piazza San Pietro, però evidentemente c'è anche un lavoro legato ad un messaggio. Sì, diciamo che qui dobbiamo dare atto al sindaco, Mariero Zoggia, che da parecchio tempo, diciamo qualche anno, che ci lavorava dietro. Diciamo che noi abbiamo il presepe di sabbia che è Sand Nativity in piazza Marconi, ormai da tredicesima edizione, e abbiamo la fortuna di avere quella sabbia speciale, come si diceva, che si impacca e diciamo fa sì che il presepe di sabbia quando è fatto non crolli, perché quella sabbia ha un qualcosa, di fatti si riprendeva anche quel patriarca che ha detto che ci sono dei piccoli granali di sabbia che assieme fanno quello che si vede adesso, questo presepe bello. Naturalmente il sindaco ci ha creduto, hanno lavorato assieme all'assessore collega al turismo con gli uffici e siamo riusciti, sempre il sindaco, a andare a mostrare questo bozzetto al patriarca Francesco Moraglia, il quale ha deciso di condividere con noi questo progetto. Dopo anni siamo riusciti a portarlo in piazza San Pietro. Il problema è che non è stato facile perché sono partiti parecchi team. Camion di sabbia. Sì, e anche perché sappiamo benissimo che Iesolo si è, diciamo, tra virgolette, messa nel limbo, nel senso che trovarci in piazza San Pietro, a Enneorogano presepe di sabbia, dove il santo padre al 31 di dicembre era che pregava davanti, è tutto una cosa emozionante, sia per me come assessore, ma penso per tutta l'amministrazione e il sindaco che ha avuto questa grandissima idea. Cosa ha detto il Papa di fronte a questa natività particolare? Aveva mai visto un presepe di sabbia? Ne aveva sentito parlare? Diciamo che noi quando siamo andati all'udienza, il 7, ci ha ricevuto e anche lì, come dicevo prima, era un'emozione, ha fatto due o tre accenni e anche lui è rimasto, per quello che è un presepe, fatto con la sabbia. Infatti, presumo, anzi, sono certo che, io non so cosa possa aver detto il santo padre, però ritengo che sia uno dei migliori, forse, miglior presepe, perché è stato fatto con un materiale che è molto povero e dunque per noi è un orgoglio. Dopo il santo padre sicuramente avrà parlato, spero bene, perché alla fine piazza San Pietro... Il presepe di sabbia, passata i 20 giorni in cui rimane esposto in piazza Marconi, quest'anno nel caso di piazza San Pietro, viene demolito, cioè questa sabbia che resiste, potrebbe resistere all'infinito oppure va smontata e rimontata? Le faccio questa domanda perché so che la visibilità della piazza San Pietro ha aperto le porte a che questa natività, Sand Nativity, possa diventare un appuntamento itinerante, cioè che Iesolo, con il suo presepe, possa fare un po' il giro del mondo. Allora mi chiedevo in formato mignon, cristallizzato, una natività di sabbia, come funziona dal punto di vista, perché noi abbiamo sempre visto in questi anni, sia nel presepe di sabbia che nei castelli di sabbia, arrivano tot artisti, scultori specializzati e lì creano, poi dura questa scultura il tempo della rassegna e poi la sabbia torna a essere sabbia pronta magari per essere riplasmata sotto altre forme. Diciamo che il segreto, parlavo proprio l'altro giorno con il dirigente Massimo Ambrosini, è stato quello di, a parte la sabbia che si sposa per quello tipo di presepe e quello tipo di scultura, però viene talmente pressata, forte, che diventa come un blocco e si fortifica un altro blocco. Ma poi attualmente ci sono tutti gli accorgimenti, perché va controllata, va tenuta controllata, però è proprio il tipo di sabbia che non ha nessun problema a rimanere comparto. Quindi rimangono dei blocchi pronti per essere scolpiti con altre forme? Sì, in sintesi vengono fatti degli accattastamenti a piramide, viene messa dentro a piano la sabbia e man mano viene pressata. Arrivando alla fine poi vengono tolti questi, diciamo, elementi di legno e iniziano i scultori a scolpire quello che è il presepe di sabbia. Posso aggiungere anche, visto che mi ha detto prima del presepe di piazza Marconi anche, che all'interno quest'anno c'è stato fatto un bozzetto per piazza San Pietro. Invece un bozzetto è stato fatto per piazza Marconi. All'interno, ancora da scoprire, abbiamo prima scoperto il presepe di sabbia in piazza San Pietro. E poi abbiamo inaugurato il presepe, sempre all'interno del Senato Attiviti, di quello che era l'originale di Roma. Dunque anche lì, e poi non dimentichiamo che siamo arrivati anche, che la Casellati, il Presidente del Senato, ci ha invitato a fare il presepe piccolo, il presepe di sabbia anche dentro del Senato. Dunque è stata, diciamo, una catena, anche una fortuna, perché alla fine, come dicevo prima, quando si crede in una cosa e si rischia, si arriva anche ad avere dei meriti. Dopodiché, se abbiamo anche degli amministratori, in questo caso il Sindaco, Zoggia, che ha voluto lavorare e ha voluto crederci veramente fortemente su questa cosa, abbiamo avuto un impatto mediatico che è, secondo me, molto elevato. E poi tutto quello che riguarda anche l'ambito natalizio, abbiamo fatto sì che Jeslo tutto l'anno sia sempre stata il centro d'attenzione. Quanto è stato facile o è facile veicolare eventi di questo genere, abbinati comunque ad un nome, Jesolo, che è un brand, perché indubbiamente già di per sé è un brand, bisogna però tenerlo vivo come tale? Bisogna avere degli amministratori bravi, degli uffici che, anzi, colgo con ragione di ringraziare sempre perché fanno un ottimo lavoro, di dirigenti competenti e un capitano. Magari sentiremo anche le opposizioni se sono così convinte o se hanno degli appunti da fare. Beh, guardi, io posso dire che l'opposizione sull'ambito strategico, quello fatto in Piazza San Pietro, non penso che possano dire nulla. Naturalmente c'è sempre, non puoi accontentare tutti, però ritengo che al di fuori di uffici e tutto ci sia un capitano, un comandante, che è il Sindaco e che ormai dal secondo mandato sta portando avanti la città in maniera, direi, egregia. Quanto questi eventi, e poi entriamo a parlare degli eventi che sono qui alle porte legati a San Valentino, quanto questi eventi che funzionano danno anche un'importanza a livello nazionale al comune di Esolo, un peso, se vogliamo, anche specifico per poter risolvere situazioni, penso alla mareggiata del 29 ottobre, che ha devastato la spiaggia lì della Pineta. Quanto appunto, lavorando su più fronti, poi alla fine si è anche ascoltati su necessità più impellenti? Diciamo che quello è un compito più dell'assessore Aldemagno, della mia collega, che sta lavorando assieme anche agli uffici e alla Regione Veneto, perché la Regione Veneto è quella che stanzia i finanziamenti. Siamo in un buon, diciamo siamo in maniera positiva. Senza spiaggia non si fanno gli eventi, non si fanno... Sì, diciamo che la Pineta è quella più erosa, diciamo, però quest'anno, già l'anno scorso e quest'anno, abbiamo fatto dei pennelli in roccia, stanno facendo dei pennelli e sembra che questi aiutino a quello che è... Sono delle barriere, delle mini dighe fatte di sassi e reti. Poi noi abbiamo anche, mettiamo anche con i consorsi, quella barriera di sabbia un po' rialzata che protegge, però sappiamo benissimo che contro il clima e contro gli eventi di quel genere lì possiamo solamente pregare che ci siano meno barezzate possibili. Questo non è che succede solo a Iesolo, succede su tutte le località del Veneto. Naturalmente vediamo anche gli accordi che hanno fatto tra sindaci, il patto dei sindaci del litorale, il quale fanno squadra e portano quello che è il problema alla Regione. Poi naturalmente, in questo caso, non dobbiamo guardare i colli politici, ma dobbiamo guardare di sistemare... Infatti, quello dicevo, la lobby, no? No, io, guardi... Per poi portare a livello nazionale la necessità di avere delle risposte? Se c'è una cosa che... Vi auto-visolvete i problemi? No, diciamo che non voglio essere troppo sicuro, però quando un'amministrazione, in questo caso il sindaco Zoggia è stato eletto, ha detto che qui dentro non si fa politica, lo ha sempre mantenuto. Quindi fa amministrazione. Lei sa che forse anche sul primo mandato, quando sono utospite da voi, che mi avete anche portato bene, ringrazio, abbiamo fatto l'accordo PD-Forza Italia. Che era un'anomalia a livello nazionale. Io penso che prima di tutto ci sono le persone. Se ci sono, faccio un esempio, Lega o un altro partito, non è perché da un essere di centro-restre non andano d'accordo. Se le persone non andano d'accordo, non andano d'accordo, a prescindere dal simbolo. Dunque, se il secondo mandato Zoggia è stato eletto, è perché c'è una squadra che lavora, non lavoriamo, non siamo fenomeni, però cerchiamo di amministrare con testa. Naturalmente non possiamo sempre avere la bacchetta magica, però dobbiamo ammettere che effettivamente è tutto quello che mi diceva lei, la realtà della spiaggia, che è un problema molto grosso, ho sentito, perché la pineta è quella che inizia la stagione dopo e finisce prima, come il faro, stessa cosa. Abbiamo quella regione che sta intervenendo, dobbiamo semplicemente mettere da parte quello che è la politica e cercare di collaborare insieme a tutti i comuni per arrivare a quello che è il sostegno, per avere la possibilità di fare i pennelli a mare e si estremare quello che è la spiaggia, diciamo. Insomma, l'amministrazione di Jesolo vive un idilio e quindi Jesolo non può che essere la capitale dell'amore dal 14 febbraio al 18 febbraio. 14-17. Dal 14 al 18 febbraio. Però non vi basta, non solo Jesolo, perché questo gemellaggio con il Lago di Garda? Perché, vabbè, Lago di Garda, il veronese per Antonio Masi, alla provincia degli innamorati? Diciamo che questo format, questo evento, non è solo un evento in sé, ma è una collaborazione appunto con il Lago, perché ci sono cinque comuni. È nato in circa un anno e mezzo fa. Parlando con gli organizzatori, avevamo pensato di fare anche noi qualcosa che potesse essere lo stacco tra quello che è il Natale e il Carnevale. Naturalmente, come diceva prima, Jesolo non è mai ferma, cerchiamo di dare e offrire sempre di più al turista e abbiamo fatto questo, diciamo, gemellaggio. Difatti, all'8 di febbraio, abbiamo la conferenza stampa a Palazzo Balbi e ringrazio anche la regione che ha creduto in questo progetto, perché, diciamo che l'idea nasce di fare lago, mare e un indomare, i mari si funziona, montagna e città d'arte, tipo Venezia. Com'è questo format? Cioè, per spiegare ai telespettatori che cosa succede? Cosa troveranno a Jesolo? Cosa troveranno sul Lago di Garda e cosa troveranno se c'è la possibilità? Non lo so, andando a Jesolo? Sicuramente, certo, però per capire... Allora, in sintesi è un grande cuore che viene fatto in Piazza Mazzini. Vorrei specificare per alcuni commercianti, perché anche lì ci sono le lobby, che non è stato fatto in Piazza Mazzini solamente perché è Piazza Mazzini, ma perché c'è una struttura che quella piazza può ottenere, può ospitare. Altre piazze non riescono in base al raggio. Quindi non è un caso che un certo tipo di situazioni vengano organizzate lì. Sì, dunque perciò essere chiaro. È un cuore 30 metri per 25, in cui ci saranno 24-25 espositori, saranno di chioschetti molto leggeri, fatti belli. Quindi un mercatino a cuore? A cuore. La cosa bella è che verrà visto da una terrazza di un palazzo di Piazza Mazzini dove si potrà fare la foto e si vedrà questo cuore gigante con dentro all'interno, l'amministrazione ha voluto mettere, la ZEI di Jesolo con nel posto del punto il cuore. Dunque un brand anche lì all'interno di quello che è Jesolo in Love. Poi all'esterno ci saranno un ristorantino per gli innamorati, dunque chi vuole... E per chi si è appena separato? Niente? No, è uguale. Nessun problema. Lei mi diceva prima che c'è qualcosa per i singoli. Anche i singoli? Sì, si farà una bella passeggiata al mare, naturalmente, speriamo che c'è il sole, io spero che mi sì. Che magari uno festeggia anche il fatto che finalmente ha chiuso una storia. Sì, beh. Scusi, sono un po' provocadori e dissacrante, ma anche quello è amore e affetto, no? Ma queste battute ci sono anche sui social, perché vediamo, io che sono singoli, io ho detto giustamente, ho detto venite giù perché non c'è solo il... Poi magari qualcuno si incontrano e poi il prossimo anno cambiano ruoli. Può essere anche un vantaggio di fare sia per gli innamorati ma anche per le nuove coppie. Che cosa vendono i chioschetti? Allora, ci sarà un po' di... Allora, innanzitutto oggettistica di regali, la classica potrebbe essere la rosa, il cioccolatino, la bottiglia di vino, il... Comunque, più che altro, su oggetti che riguardano tutto quello che è il... L'artigianato. L'artigianato. Non mancheranno i prodotti anogastronomici? Qualcosa c'è. E poi abbiamo anche per i bambini, per i più piccoli, una casetta per quelli che vogliono farsi cuoricini oppure qualcosa con il pongo, lavorare un po', e avremo anche lì una specie di controllo perché alla fine poi questi bambini si porteranno a casa a fare l'oggettino, capiranno anche loro nel piccolo cos'è essere, diciamo, tra virgolette, innamorati. C'è la possibilità di... Lei diceva da una terrazza si potrà fare le foto del cuore. Uno può usare un drone, avete pensato a delle immagini in col drone? I drone ci vogliono dei permissi speciali e dunque abbiamo ovviato insieme all'organizzazione, dicevano facciamo lo stesso, non si può. No, non si può. Con il pazzettino del pilota di aerei più o meno. Esatto, abbiamo ovviato con questa terrazza e ringrazio quelli che ci ospitano che adesso stiamo lavorando affinché portiamo a casa il tutto, però dall'altro si potrà fare la foto e si vedrà questo cuore grande. Poi è una cosa bella che verrà promosso anche i matrimoni in spiaggia perché noi sappiamo che d'estate facciamo molti matrimoni. Sì, è anche una situazione in crescendo, no? Sì, molto. È un'abitudine che sta... Molti turisti stranieri lo credono. E poi piace trasversalmente perché c'è chi si organizza il matrimonio triunfalistico in spiaggia e chi invece coglie la spiaggia per dire, vabbè, siamo in due e un pareo bianco e abbiamo risolto. Alla fine è molto uniformante la possibilità di sposarsi in spiaggia. Sì, diciamo che questo Yes on in Love dà anche la possibilità di pubblicizzare, promuovere quello che noi facciamo nell'ambito matrimoni. E dunque ci sarà un stand proprio fatto per quello che voglio chiedere la mano. Insomma, volete proprio fare concorrenza a Verona come città dell'amore? Beh, io penso che ogni comune sposi il proprio evento. In questo caso abbiamo voluto fare gemellaggio appunto perché riteniamo che Verona Comune di Verona Lago di Garda e Jesolo ci sia, oltre che la collaborazione C'è anche l'acqua che unisce Esatto, il lago il mare d'amore il lago d'amore comunque alla fine diciamo che tutto gira attorno a quello che è una località a quello che è un'amministrazione che vuole fare qualcosa per incentivare la propria località noi stiamo lavorando su quello sappiamo benissimo che non si vive solo di turismo noi anche abbiamo nell'ambito invernale ed estivo abbiamo anche le valli che sono molto molto appetibili e dunque Jesolo è da amare diciamo visto che parliamo di l'olio da amare ma anche una cosa da venire a vedere questi eventi sono un un grimaldello poi per alla fine permettere alle persone di organizzarsi una vacanza che non è insomma il giro tra le cosette per San Valentino è proprio scoprire Jesolo d'inverno le valli d'inverno è in quest'ottica ed eventualmente anche il gemellaggio con il lago di Garda e per creare un flusso reciproco magari chi da Jesolo va al lago di Garda e viceversa diciamo che non è questo qua è la prima edizione non è semplice ma abbiamo già in mente insieme agli organizzatori di fare altre cose è che giustamente partiamo piano per valutare un attimo quello che può essere l'impatto e poi vediamo il prossimo anno già lavoriamo finito questo San Valentino lavoriamo già su un format per farlo crescere e dunque lì potremmo inserire anche quello che è le valli quello che è la montagna quello che sarà in futuro una città di arte tipo Venezia e dunque è tutto un cantiere aperto in continuo intorno a questo cuore ci sono altre manifestazioni? sì allora noi chiudiamo il presepe di sabbia il 2 di febbraio e subito c'è Jesolo di Lov però abbiamo una mostra che è Piazza Brescia che è molto forte è un privato però ha il patrocinio nostro e già fa già parte edizioni ha fatto i corpi plastinati la prima volta ha fatto un successo adesso è a Milano e voglio ringraziarli perché sono sono degli organizzatori veramente fantastici avere privati che investono anche d'inverno centinaia e migliaia di euro e quest'anno c'è la fabbrica della scienza appunto e sta funzionando molto bene poi abbiamo ripeto tutto quello che anche si live abbiamo e poi abbiamo giustamente questi 15 km di spiaggia che ripeto quando c'è il sole funzionano bene tutti i negozi visto che lei è l'assessore al commercio le società produttive saranno coinvolti non lo so con un segnale con un creare una vetrina a tema sa un po' tutte quelle iniziative che poi fanno fanno festa fanno coinvolgimento fanno comunque spettacolo diffuso diciamo che Iesolo è un po' particolare perché ho messo le mani in un tasto dolente no beh nessun problema abbiamo le associazioni di categoria che con l'amministrazione collaborano almeno con l'amministrazione al commercio collaborano e poi dirò anche perché ma abbiamo due realtà abbiamo Lido e abbiamo il centro storico che è il paese e dunque c'è sempre stata una competizione abbiamo cercato di valutare anche nel periodo degli eventi nell'ambito invernale di fare sì il villaggio di Natale ma anche di fare adesso arrivo di fare questo paese del cioccolato in paese e le vetrine più di qualche volta noi cerchiamo di incentivare ma non è semplice perché ci sono magari 30 commercianti di cui 10 operano e magari 10 non operano però noi non possiamo imporre è che se come amministrazione cerchiamo di dare quell'input e abbiamo visto che funziona anche il centro storico e anche Lido vedendo che ci sono attrazioni aprono i negozi perché quest'anno quest'anno abbiamo avuto 46 attività in più nell'anno precedente e 40 strutture in più alberghiere che hanno aperto dunque significa che siamo sulla direzione giusta e diciamo tra un po' tra un po' di negozianti tra l'apertura tra la vetrinetta diciamo che abbiamo fatto un fil rouge poi avevamo quel trenino della nostra partecipata che è Itaca che nell'ambito del mese è sempre rimasto pieno andavano su e giù e lasciavano magari la macchina in paese e scendevano al Lido o viceversa dunque diciamo che come diceva lei non è facile perché i commercianti sono molto molto difficili però in una cosa siete riusciti siete riusciti a fare un riordino del layout delle insegne a dare una linea comune in modo che non ci sia una babele che ci sia una certa continuità anche adesso da quello che mi diceva le prima fuori onda penso al layout partendo da questa scritta Iesolo che sta diventando un'attrazione perché sento molti veneti che vengono a Iesolo solo per farsi la foto con questa scritta Iesolo quindi evidentemente Iesolo ha anche un po' questa caratteristica di essere laboratorio e fucina anche di idee nuove se vogliamo anche laboratorio di marketing sì io dico sempre che se la squadra funziona funziona anche Iesolo la scritta come appunto Iesolo è stata pubblicizzata fatta proprio in piazza Marconi abbiamo avuto dei problemi di cui tipo che è troppo fuori vicino alla strada e adesso vediamo anche di cercare di sistemarla perché giustamente è stata se uno vuole farsi il selfie diciamo che ha un po' di difficoltà però grosso modo intanto capiamo quello che è la scritta e quello che è l'intenzione dell'amministrazione poi tutto si può si può mediare certo che ha fatto un gran successo sì perché Iesolo in grande così vediamo anche Amsterdam anche le altre località sì anche Hollywood poi recupera quella e dunque il brand anche lì si arriva in piazza Marconi e si vede questa scritta imponente che non è che non è da poco naturalmente poi mi diceva del riordino del commercio se vuole arriviamo anche là sì sì certo infatti abbiamo ancora qualche minuto io pensavo non la facessi più avanti però no siamo quasi alla fine allora il riordino del commercio è stata ormai da anni che si parlava noi abbiamo come amministrazione sempre chiamati in continuazione che continuano a dire ma mi tira giù la tenda non riusciamo a vedere l'attività ci sono anche a volte delle brutte cose che non sono belle da vedere io dico che il regolamento al di fuori di tutto non si fa differenze tra Bangladesh e l'italiano io sono del parere che il regolamento ho detto a più di qualcuno è uguale deve essere per tutti naturalmente non è un regolamento è un riordino io dico che quando si è a casa nella propria casa si tiene pulito e dunque quando si è su una via la terrazza deve essere in ordine noi vediamo altri aspetti tipo Rimini ha fatto un regolamento un pochettino ha preso più anche il decoro esterno però ha fatto un regolamento un po' più rigido quali sono le cose adesso vietate? allora non nessuno di vieto allora diciamo questo che noi abbiamo cercato di mettere in una terrazza un riordino abbiamo scelto di non fare nulla appeso al soffitto delle tende nulla sopra le tende perché addirittura mettevano sopra le tende per terra anche per una scorso di igiene i carrelli laterali e le tende a caduta naturalmente niente attacchi c'era un qualche gommone sugli alberi attaccati sui cartelli stradali biciclette attaccati ai pali questa è l'immagine della mia infanzia però capisco però quando si amministra bisogna avere anche il coraggio erano altri tempi ovviamente bisogna avere il coraggio di dire basta allora lo abbiamo fatto approvato il 20 dicembre per dare una mano e l'abbiamo concordato con tutte le associazioni dunque niente di imposto e abbiamo dato sei mesi da gennaio fino a maggio perché con il primo di giugno si parte rischiano multe salate? allora la multa stiamo valutando perché va da 25 a 500 stiamo valutando la cifra da mettere non abbiamo inserito la chiusura del locale dopo tre sanzioni perché diciamo che siamo partiti leggeri però se gli uffici hanno fatto un piano comunicazione il quale seguiremo apertamente abbiamo tempo di fare varie serate usciamo anche nel territorio siamo usciti anche l'altro giorno a vedere qualche bazar però cerchiamo di spiegare poi il primo di giugno se qualcuno non si adegua oppure vediamo chi si sta impegnando è logico che non andiamo là e sanzioniamo abbiamo il buon senso però se si parte tutti facciamo squadra vediamo che una via Bafile da Piazza Marconi fino al Faro vediamo un attimo di vedere qui i negozi un pochettino ordinati anche per il turista stesso che viene Avete pensato adesso lei mentre mi descrive abbiamo proprio tanti secondi attraverso queste iniziative di trasformare lei parlava di via Bafile un po' come la via Monte Napoleone di Esolo e creare magari insomma uno adesso penso ai centri commerciali questo è una passeggiata commerciale mezzo alla natura quindi niente di la natura parlo di mare niente di meglio diciamo che nel contesto bisogna cercare di valutare tutto però visto che il commercio in questo momento sta soffrendo come amministrazione non dobbiamo imporre ma cercare di aiutare i commercianti io penso che su questa direzione ci siamo perché la pulizia del locale fa parte anche di quello che dopo la città offre al turista quando viene a Iesolo io non ho più tempo ringrazio Alessandro Perazzolo assessore al commercio e attività produttive del comune di Iesolo dal 14 al 17 febbraio San Valentino mi ha portato un gentile cadeau questa è la casetta che ha vinto del Christmas Village 2018 tre edizioni questa è la terza capitolo terzo grazie ad Alessandro Perazzolo grazie a vostri ospiti di Telepato grazie a voi per averci seguito quindi tutti gli innamorati a Iesolo gli altri pure grazie arrivederci buona giornata grazie a tutti grazie a tutti